È una vittoria importantissima perché era uno scontro diretto fondamentale, sappiamo che dobbiamo far meglio dal punto di vista della prestazione, però è una vittoria che dà morale e sicuramente vale il doppio perché sono punti importantissimi. Il primo tempo, come hai detto tu, abbiamo sofferto un po' di meno, poi abbiamo subito quel rigore, il gol, però dopo siamo stati bravi a creare il gol del pareggio con il cross di Celli e il gol di Infantino e quindi siamo stati bravi nella reazione. Poi nel secondo tempo loro hanno preso più campo e ci hanno messo sotto purtroppo, quindi in settimana rivediamo gli episodi, cerchiamo di lavorare su quello che è mancato e soprattutto nella seconda parte della partita. In settimana aveva provato diverse soluzioni il mister e mi aveva messo lì dietro la punta diciamo per cercare di creare più alternative davanti in maniera differente rispetto al solito. Quindi me l'aspettavo perché avevamo provato in settimana, però mi sono trovato abbastanza bene. Ovunque dove mi dicono di giocare mi provo a farlo nella maniera più meglio possibile, quindi è andata bene. Sì, infatti la vittoria l'abbiamo dedicata subito a lui perché era l'ultima azione e purtroppo io ero dalla panchina e non ho potuto vedere bene l'episodio, però hanno detto che si è visto subito. Sì, loro si sono resi subito conto che si era fatto male e ci è dispiaciuto, quindi la vittoria era fondamentale dedicarla a lui, però l'abbiamo visto adesso passeggiare qui lungo allo spogliatoio, ci ha rassicurato perché ha detto che fra tre e quattro mesi sarà subito in campo e lunedì si opererà, quindi gli auguriamo in bocca a lui. Ha detto che ci sarà ovunque con noi e tutte le altre partite che ci rimangono, quindi abbiamo un tifoso in più e sicuramente domenica sarà un'altra vittoria importantissima perché è un'altra squadra che sta lì con noi e sarebbe fondamentale un'altra vittoria. Se arrivare a una vittoria e giochiamo male, magari, poi quando giochiamo bene e perdiamo, ci lamentiamo.